buonasera a tutti venerdì 22 dicembre sono l'una di notte sono qui davanti l'ospedale di polistena pronto soccorso abbiamo accompagnato un nostro collaboratore che mentre stavamo cenando si è sentito male ha perso conoscenza naturalmente è successo verso le dieci e mezza sono già due ore e mezza che siamo qui naturalmente una situazione disperatissima qui in questa struttura al di là della buona volontà dei due medici presenti di qualche infermiere presente una struttura che fino a mezz'ora fa c'erano almeno 70 80 persone qui è una condizione incredibile perché non è pensabile che due medici possono tenere sotto controllo una mole di lavoro impressionante qui ci sono 25 mila accessi all'anno al triaggio una sola persona quando era anche prevista un infermiere due os nulla di tutto ciò una sola persona che si deve occupare tutto il fallimento di questa struttura di questo ospedale parte proprio dal pronto soccorso da questa reparto che deve essere il motore di questa di questa di questo ospedale invece si ritrova ad avere solo due medici qualche infermiere ad assistere diecine e diecine di persone che ogni sera se non centinaia di persone che ogni sera arrivano qui per varie ragioni per varie situazioni ed è una cosa impensabile ecco perché credo che la dottoressa di furia deve scendere in prima persona e venire qui la notte capire qual è la vera emergenza di questa ospedale di polistra la vera emergenza che il pronto soccorso perché credo che da questo reparto da questa struttura fondamentale per la piana di gioia tauro che se non me lo consentite non ce la fa più a ad assistere a 25 mila accessi in un anno numeri stratosferici e non è pensabile che tutto ciò possa avvenire ecco adesso c'è un attimo di calma perché tutte le persone sono dentro ci sono almeno altre 30 persone all'interno assiepati in attesa di essere visitati tante emergenze tanta gente che sta molto male io nulla contro i due medici e gli infermieri che stanno operando in maniera ininterrotta però la situazione è veramente di una che è stato molto male io nulla contro i miei incontriamo anche a tutti gli espermieri che